Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, il Climato Tranwell su YouTube e l'Oculus Games su Twitch e questo è il nostro 31esimo episodio con la carriera del Caglia di calcio, episodio gargantuesco perché oggi dovremo decidere se siamo davvero diventati grandi oppure siamo sempre una squadra, sì, che dà spettacolo, sì, che è prima in classifica ma che ancora non è pronta per l'Europa, ma io sono convinto che oggi possiamo realmente dare una lezione di calcio al Barcellona dobbiamo riuscire a provare a passare questi ottavi di Champions perché sarebbe un risultato clamoroso a Sardegna Arena e il Barcellona si presenta un'altra volta con lo stile tattico tiki-taka, un'altra volta con il 4-2-3-1 ma sulla fascia sinistra cambia qualcosa in termini di nomi perché non abbiamo più Griezmann come attaccante esterno ma c'è Dembélé, giocatore molto più veloce di Griezmann, accelerazione, agilità e velocità spaventose, soprattutto accelerazione e agilità Movimenti senza palla perde qualcosina rispetto a Griezmann, perde qualcosina anche in termini di finalizzazione però è comunque un giocatore che è abile a saltare l'uomo, è un giocatore che comunque può giocare sia a destra che a sinistra perché di solito gioca a destra ma lui è ambidestro quindi a sinistra ci può giocare e soprattutto è un ragazzo che non gli va dato lo spazio perché altrimenti veramente può essere devastante ancora più di Griezmann Cucurella stavolta sull'out di sinistra, non Alexandro, sicuramente meno abile di Alexandro ma comunque un fenomeno, guardate a livello fisico e mentale che valori eccellenti a livello tecnico deve ancora crescere ancora un po', c'ha 22 anni, determinazione 18 quindi di sicuro migliorerà però per ora è un terzino che può dare sicuramente sia una mano in difesa perché c'ha contrasti 13 che marcatura 13 ma anche in fase di supporto perché 12 in dribbling, cross 12 e passaggi 12 vuol dire che sa attuare una manovra di supporto per la squadra sa portare la palla in avanti, sa anche saltare l'uomo quando serve quindi dobbiamo stare attenti un'altra volta sulle fasce quindi come ci metteremo in campo? Ovviamente un'altra volta con il 4-2-3-1 clop modificato perché siccome il Barcellona è molto più forte di noi sulle fasce non solo sulle fasce ma soprattutto sulle fasce, noi mettiamo il terzino futificante in difesa e mettiamo l'attaccato esterno in supporto tutti questi atteggiamenti in supporto ci servono anche per poter mantenere un baricentro un po' più basso visto che di base il 4-2-3-1 spinge un po' più sulla tre quarti della squadra e però ci servono 4 uomini davanti un po' come all'andata perché loro ci attaccano con 6-7 uomini e noi dobbiamo rispondere chiaramente con un atteggiamento di pressing molto elevato altrimenti poi l'avversario può fare quello che vuole e a noi questo giustamente non ci piace il Barcellona ha confermato tutti i suoi 11 titolari che avevamo scoperto nell'analisi tattica mentre noi abbiamo dovuto un po' arrangiarci perché qua a me era stanco alcuni giocatori sono squalificati, non c'è Tonali ad esempio molti sono stanchi tra cui Oland, Demiral, Luis Felipe e Arons ma dobbiamo resistere perché è qui che si vede veramente se una squadra vuole lottare o meno per andare avanti Trinscao per Rog, in area di rigore Rog, il tiro di Rog, il gol di Rog si, grandissimo Rog, siamo andati in vantaggio pure a Sardegna Arena ora abbiamo ben 3 gol di vantaggio sul Barcellona per passare il Barcellona dovrebbe fare ben 3 reti in una sola partita ma lo possono fare, sono una squadra capace di perdere anche con 5 gol con 4 gol, ce l'hanno insegnato in Champions League in realtà contro il PSG ma sono anche una squadra che è capace di fartene 6 o 7 quindi attenzione, dobbiamo mantenere la calma però dobbiamo anche goderci il momento favorevole Demiral in avanti per Wagnumann poi Palacios, ancora il Cagliari con Despudo va a spingere sull'ottisinistra dove ci stanno due giocatori che lo braccano e quindi la palla finisce a Xadas che gliela ritorna a Wagnumann che sull'ottisinistra potrebbe ancora rimetterla al centro preferisce Despudo, bassa, ancora Wagnumann al centro per Oland, bloccato e allora Dembélé potrebbe far ripartire il Barcellona ma Rogue ringhia su di lui e riesce a recuperare il pallone e ancora Rogue in area di rigore il tiro di Rogue, il palo esterno questa volta salva il Barcellona guardate che statistiche clamorose tutti a favore del Cagliari primo tempo che si conclude con il gol di Rogue per il resto non ci sono stati acuti da ambo le parti io dico ai miei ragazzi che stanno andando molto bene e mi fa piacere vederli giocare in codesta maniera siamo al 66esimo proviamo a togliere qualcuno non posso togliere Rogue perché non ho centrocampisti centrali disponibili purtroppo potrei al massimo abbassare Xadas però poi dovrei mettere qualcun altro sulla tre quarti tipo 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 Sigurdsson dopodiché potremmo togliere Despudo per mettere Kwame visto che è considerato che anche lui è ammonito e non possiamo fare più null'altro perché la terza sostituzione non me la voglio assolutamente giocare adesso me la tengo per sicurezza sperando che non vengano ammoniti altri giocatori De Jong la mette al centro ancora per Messi poi avanza in area di rigore Messi palla al centro sbagliata completamente quindi Rogue può far ripartire Cagliari con Oland che recupera la palla torna dietro per far salire la squadra poi la butta davanti per Sigurdsson appena entrato Sigurdsson in area di rigore sbaglia il cross e quindi niente di fatto Oland la tiene ancora lì in area di rigore la mette a centro per Trincao che potrebbe fare il raddoppio e lo fa grande Trincao grandennesima lezione del Cagliari al Barcellona come all'andata 2-0 68esimo il Barcellona è in balia del Castellu rivediamo l'azione con Oland che rinviene su questo pallone perso dal suo compagno poi la mette al centro Trincao è libero non può sbagliare è facile facile la mette sul palo opposto di Ter Stegen Cucurella la mette per Eriksen ancora Cucurella sta lì sul lato di sinistra poi ancora questa palla al centro per Suarez che la tocca forse la spizzica non ho capito se la tocca lui o fa la finta attenzione c'è il VAR annullato il gol di Suarez se no l'aveva poco poco spizzicata perché sembrava che non era cambiata la traiettoria sul tiro di Eriksen e invece c'era stata la spizzicata però annullata siamo sempre 2-0 il Barcellona avanza ancora con Bernardeschi addirittura poi De Jong De Jong la tiene lì la gira a Eriksen che vuole partire direttamente dalla difesa il Barcellona non riesce a trovare gli spazi allora deve ricostruire tutto deve provare a riallungarsi De Jong la passa a Bernardeschi per Suarez da solo braccato la butta davanti do coio coio meno male che c'è Wagnumann lì pronto a far girare questo pallone poi Demi Rall Cincischi la passa a Ramos che capisce il momento e allora la butta davanti la palla finisce a Sigurdsson che potrebbe scambiare con Kwame in a rigore Kwame potrebbe passarla Dolan preferisce tirare Kwame fa la scelta migliore della sua vita perché siamo sul 3-0 contro il Barcellona mamma mia che Cagliari mamma mia che Sigurdsson sa fare anche il trequartista ma pensa te guarda Sigurdsson che riesce comunque a scambiare velocemente con Oland poi Kwame giustamente entra in a rigore e la piazza lì dove giustamente il portiere non può fare nulla 82esimo Barcellona con Messi proverà a mettere questa palla al centro per la spizzicata di Suarez ma non va e allora ancora Dembélé al tiro stavolta non può sbagliare Dembélé oddio il tiro era difficile perché l'ha tirato di prima e soprattutto era molto defilato però lo sappiamo queste zone di campo quest'anno sono le più pericolose e più facile segnare paradossalmente da questa posizione qui che non da quella centrale e quindi Dembélé ha fatto comunque un bel gol veramente preciso basso perché se tu la alzi quella palla diventa più facile per il portiere ma se la tieni bassa anche in realtà appunto diventa difficile l'Engley pronto a mettere ancora questa palla al centro per Suarez Audero si oppone il Barcellona ha un impeto di orgoglio e vuole assolutamente uscirne a testa alta da questa competizione Messi ancora sul calcio d'angolo ancora per Suarez ma Ramos capisce tutto la palla finisce però ancora Messi che potrebbe rimetterla al centro scarta un giocatore prova a driblarlo la seconda volta non ce la fa sarà ancora calcio d'angolo per il Blaugrana siamo al 91esimo in pratica pochi secondi al termine di questo incontro spettacolare tra il Casteldu e il Barcellona Palacios che ha giocato bene Palacios e devo dire non me l'aspettavo lui sostituiva Tonali Palacios ha giocato veramente poco in questa sua avventura al Cagliari perché si è trovato davanti un Tonali stratosferico ma è un giocatore su quale bisogna assolutamente puntare se volete fare una carriera su FM ancora Trincao la tiene lì poi la allarga in avanti ma Untiti riesce a leggere bene la situazione poi la passa Dembele ancora Untiti lancio lunghissimo in avanti per Bernardeschi che corre tantissimo ma non abbastanza perché Eudero arriva prima di lui e rinviene su questo pallone sanguinolento poi Vagnum in avanti grande lancio per Sigurdsson che potrebbe passare la Oland no preferisce tirare ormai siamo sul 3-1 dice Lugullus e fammelo fare un tiro va bene signor Sigurdsson triplice fischio dell'arbitro Cagliari batte 3-1 il Barcellona e siamo ai quarti di Champions League Sigurdsson giustamente è contento sono arrivati 9-1 grazie a questo passaggio ve l'avevo detto che avremmo fatto soldi quest'anno ve l'avevo detto seconda partita dell'episodio seconda sfida gargantuesca è difficilissima perché stavolta doveva andare a Torino contro la Juventus siamo quindi fuori casa contro una squadra che sta andando bene si è ripresa e soprattutto è pronta a riaprire il campionato abbiamo solo 4 punti di vantaggio sulla seconda perché Napoli vince sempre e quindi non possiamo perdere punti se perdiamo qui il campionato è ufficialmente riaperto per quanto riguarda l'analisi tattica della Juventus non c'è bisogno di dilungarsi troppo giocano sempre allo stesso modo giocano sempre con il 4-1-2 quindi due fruttificanti andranno fino in fondo e metteranno delle palle alte sicuramente per Pister Ronaldo e Higuain che entrambi sono forti di testa ma sono anche molto tecnici Higuain è un giocatore con 16 in tecnica e Ronaldo è chiaramente un giocatore di 36 anni che ha 16 anche lui in tecnica hanno visione di gioco quindi hanno anche il passaggio filtrante per i loro compagni dietro di loro c'è un costruttore di gioco fortissimo Bruno Fernandez un giocatore che hanno pagato tantissimo che deve sostituire Dybala e lo sta facendo veramente molto molto bene un giocatore che a livello tecnico e mentale ha veramente dei numeri mostruosi 17 in tiri da lontano quindi è anche pericoloso se va al tiro mentre per quanto riguarda la parte della mediana troviamo Rabiot come mezzala e Embrecian come regista arretato perché questa scelta? perché Iguain viene messo come seconda punta quindi chiaramente lui farà un po' di movimento lui indietreggerà e cercherà insomma di partecipare alla manovra e non avrebbero bisogno di qualcuno a spingere da questa zona ed è per questo che mettono un costruttore un palleggiatore per smistare il pallone proprio a Fernandez e a Higuain mentre sul lato opposto hanno bisogno di maggiore dinamismo perché Ronaldo è molto più lontano va a attaccare la profondità lascia dei buchi delle zone non coperte ed è qui che si andrà ad infilare il signor Rabiot che io però avrei messo come centrocampista di quantità proprio per fare questo movimento in verticale box to box la mezzala siccome si allarga un po' va un po' a pestare i piedi al terzino fluidificante quando avete una situazione del genere se volete per forza mettere un fluidificante e una mezzala che vanno entrambi nella stessa zona almeno mettete atteggiamenti diversi ai due giocatori ma di base a me questa scelta non piace preferisco avere il fluidificante libero e non qualcuno che gli vada a pestare i piedi perché ripeto la mezzala si va ad allargare l'incontrista invece chiaramente avrà questa zona di competenza andrà a chiudere sull'avversario l'avversario siamo noi quindi noi come ci mettiamo contro questa Juventus con un bel 4-3 dovremmo riuscire ad opporci alla Juventus in maniera adeguata sia sulle fasce dove loro utilizzano due terzini fluidificanti che noi andiamo a contrastare andiamo a limitare grazie a una pressione delle due attaccanti esterni e tra l'altro costruiamo un triangolino dietro che va a bloccare il triangolino d'attacco alla Juventus la Juventus attaccava con Bruno Fernandez Higuain e Ronaldo noi li blocchiamo con Bradaric Demiral e Felipe questo è il nostro triangolino di difesa allo stesso tempo non rinunciamo all'attacco con le mezziali quindi loro saranno i maggiori costruttori di gioco e attenzione perché Bradaric ha la skill lancio lungo così come Tonali e potrebbe lanciarmi proprio Oland sul filo del fuorigioco e partita da Juventus con Danilo per Emre Can subito a spingere sull'atto di destra ancora Bentacur pronto ad inventare per Ronaldo in area di vigore il tiro di Ronaldo il gol di Ronaldo la Juventus è passata subito in vantaggio su una rimessa laterale e quest'anno lo sappiamo sui calci piazzati sulle rimesse sui calci di punizione sui calci d'angolo si segna veramente tanto soprattutto io prendo un sacco di gol dall'avversario più sui calci da fermo che non su azioni ma in questo caso c'è stato un lancio lungo perfetto di Bentacur e un movimento perfetto di Cristiano Ronaldo sul filo del fuorigioco e ci hanno punito proprio in quella zona di campo che teoricamente doveva essere protetta dal nostro incontrista pronto a rilancio Cesni per Chiellini che la tiene lì potrebbe passarla poi a Rabiot passaggio veloce ancora con triangolini corti la Juventus riesce a metterci in difficoltà ma poi De Miral mette in difficoltà l'attaccante della Juventus e recuperiamo il pallone Audero pronto a rilancio stavolta lunghissimo pronto a cercare qualcuno lì davanti pesca Lico Giannis perché la nostra difesa è molto alta quindi Quame la tiene lì e è ritornato dopo la pausa della Champions League in grande forma si spera Lico Giannis perde palla la recupera invece Guain la Juventus è partita bene anche in zona Guain diagonale pericolosissimo stiamo sbagliando troppo in difesa purtroppo ci sono degli errori individuali clamorosi e penso che questa partita si è messa veramente molto male ancora per Rabiot poi Bruno Fernandes che la gira benissimo Ismail vedete come la Juventus si riesce a distendere molto bene attenzione a Bruno Fernandes che è partito dalle retrovie poi il tiro di Bruno Fernandes e ancora una volta siamo fortunati che la Juventus fa male il tiro fa male la conclusione ma per il resto ci stanno mettendo sotto da piano del gioco Arons ancora Pexadas di messa laterale poi Arons le mette a centro e purtroppo stavolta non ci sta nessuno pronto a concludere ma Bruno Fernandes è già ripartito guardate in quanto corre questo gran palleggiatore della Juventus poi Ronaldo in area di rigore gli si è liberato la passa di Guain gol di Guain 2-0 la Juventus ci sta mettendo sotto secondo me i giocatori non si sono ancora ripresi dai festeggiamenti della Champions perché proprio non ci sono in campo non è una questione di soluzione tattica l'abbiamo letta bene la partita doveva essere così però sbagliano proprio le marcature sbagliano le marcature sbagliano la fase di impostazione e siamo in balia dei giocatori della Juventus purtroppo mi sa che il campionato si è riaperto a questo punto ci mettiamo in maniera spregiudicata dobbiamo cercare di recuperare questa partita dobbiamo far fuori già Bradalic e questa è una cosa che un po' mi dà fastidio perché fare una sostituzione già al 22esimo con due gol sotto senza avere la possibilità di recuperarla mi infastidirebbe alquanto allora possiamo metterci come trequartista un'altra volta Sigurdsson oppure potremmo metterci Xadas e a questo punto potremmo fare entrare Kildespodov per dare maggiore spessore alla fase d'attacco e proviamo a cambiare le sorti di questa partita con un 4-3-1 che ci ha portato molta fortuna contro il Barcellona Higuain la tiene lì la tiene lì poi la mette al centro ma Bradalic stavolta fa il suo dovere allora Tonali può allargare subito per Xadas che può far ripartire il Cagliari scusate con un tacco allora Oland ancora per Xadas ancora per Oland è partito Oland la fucilata di Oland il gol del Cagliari l'abbiamo ripresa no però l'abbiamo comunque riaperta questo è un'importante Xadas è un'altra cosa sulla trequarti nella parte centrale del campo come Alan non è un granché però ci serviva sicuramente la sua qualità in attacco e l'ho potuto mettere solo in quella posizione lì Oland ha fatto un'ottima un'ottima azione un ottimo gol adesso che è servito meglio dovrebbe essere più pericoloso speriamo che mette in difficoltà i giocatori della Juventus rimessa dall'area per il Cagliari con Arons la partita è completamente cambiata non ci sono più le incursioni centrali ma riusciamo a giocare meglio il palone noi Arons sull'hot di destra proverà a mettere questo cross al centro per Quame che di testa giustamente è un pippone gargantuesco ma perché non la passiamo ad Oland quando ci sono questi cross alti fine primo tempo la Juventus domina 2-1 ma vedete i feedback sono a nostro favore abbiamo recuperato il possesso palla abbiamo tirato più della Juventus Higuain per Bruno Fernandes riparte così in secondo tempo con Bentacur che lancia Ronaldo in era di rigore Ronaldo potrebbe chiudere la partita ma la parata di Odero blocca questa possibilità per i giocatori della vecchia signora Chiellini per Rabiola Juventus è partita nel secondo tempo con un piglio diverso molto più aggressivo ma Rogue recupera il pallone e allora sul lato di destra potrebbe servire Oland ma preferisce dare fine in fondo poi Emre Can che pur infortunato riesce a bloccarlo anche perché Rogue si era allungato il pallone allora Higuain da solo in era di rigore potrebbe chiudere ancora una volta una parata di Odero blocca questa possibilità ci sarà però caccio d'angolo per la Juventus Bruno Fernandes pronto a mettere una parabola arcuata direttamente sul secondo palo dove Chiellini però viene anticipato allora Rabiola tiene lì poi la gira ancora una volta benissimo per Bruno Fernandes che potrebbe mettere un cross ma viene ribattuto e allora si dovrà contentare di una semplice rimessa laterale e partito da Nilo si accendra la passa centralmente ma c'è Ramos che fa buona guardia allora Xadas può ripartire per Oland il tu per tu Oland la fucilata bloccata sul nascere da Chiellini che nonostante sia un giocatore di una certa età riesce comunque a far ripartire la Juventus con Higuain Higuain in area di rigore il tiro di Higuain con la parata di Audero che smorza l'ennesimo tentativo della Juventus di chiudere questo incontro proviamo a sostituire qualcuno anche per allungare un po' il tempo e direi di togliere De Miral a questo punto mettiamo Becao che non si dice Besao mi dicono nei commenti perché la sediglia non ci sta sulla C ma sta su questo segno sta sulla A e quindi si dice Becao e Trincao Xadas anche se a Monito lo lascio chiaramente Felipe potrei sostituirlo e mettere Troste Kong anche se a me sarebbe servito più esplosione lì davanti ma almeno cerchiamo di non arrivare con l'espulsione a fine partita De Ligt pronto a rilanciare lunghissimo ma ormai mancano pochissimi minuti la partita probabilmente è ormai fissata su questo risultato attenzione a Gomez che è andato più di lui nel secondo tempo Higuain in area di rigore il tiro di Higuain l'ennesimo errore di Higuain o meglio è il primo errore di Higuain perché per il resto Higuain ha tirato ottimamente è stato Odero che lo ha bloccato ancora De Sciglio spinge sul lato di destra ma ormai mancano davvero pochi secondi De Sciglio perde palla riparte qua me attenzione all'ultima avanzata del Cagliari che probabilmente potrebbe concludere bene questa partita no no perché Bruno Fernandes riesce a lanciare Ronaldo che però è lento Ronaldo in area di rigore va al tiro E Audero fa l'ennesima ottima parata Audero è il miglior giocatore in campo di questa partita e questa la dice lunga la Juventus ha vinto 2-1 ci hanno battuto hanno meritato soprattutto nel primo tempo nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo stati abbastanza cinici abbiamo tirato in porta quanto la Juventus ma la Juventus è riuscita a fare un gol in più e l'ingolanzi è opposto ma purtroppo ci siamo svegliati troppo tardi ci sono i sorteggi ma prima di vedere i sorteggi voglio vedere cosa è successo negli ottavi Real Madrid ha battuto il City la Juventus è riuscita a superare la squadra portoghese Barcellona è stato eliminato dal Cagliari il Paris Saint Germain giustamente ha buttato fuori lo Shakhtar Donetsk l'Atletico Madrid ha eliminato il Bayern Monaco questo poteva essere tranquillamente una finale la Lazio è stata bloccata da Liverpool il Liverpool è una squadra troppo forte l'Arsenal batte il Borussia Dortmund e il Moschengladbach ha perso contro la Roma a questo punto non ci resta altro da fare che gustarci questo sorteggio dei quarti e andiamo quindi sul sorteggio automatico io chiaramente mi devo spostare perché sennò poi voi non vedete nulla mi metto qua Paris Saint Germain e Liverpool mamma mia due se ne sono già andate Cagliari contro oh aia Real Madrid ma aspettavo ma aspettavo una soluzione migliore ma purtroppo sono tutte partite difficili diciamo la verità perché Paris Saint Germain e Liverpool è una finale Cagliari a Madrid un'altra spagnola sul nostro percorso poi Arsenal Juventus anche questa teoricamente potrebbe anche essere una finale o almeno una semifinale Roma Atletico Madrid pure questa è una bella partita Roma comunque è una bella squadra è una bella partita Roma Atletico Madrid si possono vedere anche i sorteggi di semifinale non lo sapevo sta cosa si possono vedere anche i sorteggi di semifinale prima di vedere i quarti quindi Cagliari o Real Madrid contro Arsenal o Juventus e Paris Saint Germain o Liverpool contro Roma o Atletico Madrid quindi sulla nostra strada se dovessimo passare ma di sicuro non riusciremo a superare il Real Madrid che ha eliminato il City avremmo Arsenal o Juventus potrebbe essere una sfida italiana tutta a Cagliari-Juventus che ne sappiamo vabbè andiamo avanti e vediamo come gioca la SPAL a Sardegna Arena incontriamo una SPAL che vuole mantenere il controllo del pallone hanno una struttura molto curiosa che ricorda un po' una parabola o un missile con le ali e però favorisce proprio il giropalla e soprattutto il controllo del pallone proprio perché ci sono 4 uomini sulla mediana bassa e alta con un centrocampista di quantità che in realtà viene un po' limitato perché il centrocampista offensivo gli sta proprio davanti e il centrocampista di qualità fa un po' questo movimento box to box da un'area all'altra e quindi qui davanti ci sarebbe stato meglio un giocatore che con maggiore libertà di movimento si sarebbe potuto defilare proprio quando avanzava il centrocampista di qualità magari un trequartista qui sarebbe stato meglio oppure un attaccante di sostegno in maniera tale che ci si metteva un giocatore che avanzava direttamente in verticale e andava ad attaccare subito la profondità attenzione però perché hanno due giocatori sulle fasce che addirittura vanno a supportare la manovra dei centrocampisti quindi sono molto più offensivi di quello che può sembrare e quindi dovranno mantenere un ritmo di gioco basso perché altrimenti rischierebbero loro di essere puniti in contropiede sulla destra troviamo De Paoli come terzino fluidificante che andrà chiaramente fino in fondo e metterà una palla per Barrov mentre sulla sinistra troviamo Fares che invece andrà chiaramente a muoversi un po' come terzino fluidificante ma non andrà fino in fondo né in avanti né andrà a coprire qui in basso e questo è positivo perché Salamon è un difensore lento accelerazione 9 e velocità 10 mi raccomando se volete fare una difesa 3 il difensore più lento non va mai messo laterale ma va messo al centro perché deve essere coperto proprio da un difensore sinistro e un difensore destro più mobili ma in linea generale è un po' tutta la difesa della Spal che non è un gran che Bettella è sicuramente un giovane di prospettiva 14 determinazioni si fa che crescerà tantissimo soprattutto se avesse vicino un tutor che in questo caso però non c'è perché non c'è un giocatore forte in difesa nella Spal che può chiaramente aiutarlo a crescere comunque deve migliorare soprattutto in colpi di testa per il resto a livello mentale ci sta già a livello fisico mi deve migliorare semplicemente la forza perché la massima elevazione a 13 va già bene perché lui è alto 1,88 e come vi dico sempre la massima elevazione va sempre contestualizzata perché se uno è già alto non è importante che riesca a saltare ancora più in alto al centro troviamo Bremer giocatore che viene impresso dal Torino giocatore di prospettiva quando si inizia il gioco ma a 24 anni lui evidentemente non ha giocato abbastanza certo è più forte di Bettella da un punto di vista tecnico però è più scarso da un punto di vista mentale prestita a 10 per un difensore è davvero troppo poco certo la freddezza è buona però intuito e posizione un'altra volta sono insufficienti e questo non va bene da un punto di vista invece fisico sta messo molto bene perché c'ha 16 in integrità e soprattutto c'ha massimilazione 15 con un'altezza di 1,88 anche qui una forza magari di 14 15 sarebbe stata sicuramente meglio ma da un punto di vista fisico lui ci sta vediamo i due fruttificanti De Pauli chiaramente è un giocatore che sa spingere più che difendere marcatura 9 e contrasti 11 dobbiamo attaccarli assolutamente sulle fasce e senza palla 10 quindi vuol dire che lui quando parte palla al piede può essere pericoloso ma quando deve essere invece servito quando deve essere lanciato potrebbe non muoversi con i tempi giusti mentre Fares è un giocatore molto più pronto di De Pauli accelerazione 14 velocità 14 resistenza 14 senza palla 15 vedete che questo è proprio un terzino fluidificante rispetto a De Pauli è un giocatore che è pericoloso anche quando viene lanciato a differenza del suo compagno di reparto sull'auto opposto come incontrista troviamo Sala che di base è più un terzino però viene messo come incontrista perché non ha le doti più fisiche per poter fare l'incontrista 13 in accelerazione 13 in velocità 12 in resistenza sono davvero troppo pochi per un giocatore di movimento mentre per un giocatore un po' più statico come l'incontrista possono sicuramente andar bene però l'incontrista avrebbe bisogno di maggiori valori in contrasti e marcatura quindi è un incontrista sui generis un po' adattato un po' di fortuna Murgia è chiaramente un gerocampista di quantità un giocatore che si sposa alla perfezione per questo ruolo guardate che bei valori è un giocatore che vi consiglio di comprare perché secondo me è molto sottovalutato è un giocatore che sa colpire anche di testa che è alto 1,85 e sulla mediana questo fa la differenza è un giocatore che ha tecnica è un giocatore che sa andare al tiro ha finalizzazione 12 quindi va assolutamente temuto Kurtic l'abbiamo già visto è un giocatore che purtroppo non ha più le doti atletiche per poter fare questo ruolo però è un giocatore che può essere pericoloso soprattutto in fase finalizzativa si sa muovere anche molto bene senza il pallone Valotti invece viene messo come regista avanzato sicuramente può fare questo ruolo perché è un palleggiatore 14 in agilità 15 in visione di gioco ma lui si sa anche muovere senza palla che questo è sicuramente un plus perché lui volendo può fare anche la mezzala il modo migliore per affrontare una squadra che si mette in campo come la spalla sarebbe stato il 3-5-2 però purtroppo non posso mettere la difesa a 3 perché ho squalificati Luis Felipe e Demiral mi devo adattare contro Stekong e Romagna e mettere un Erel con una difesa a 3 in più a questi due sarebbe stato veramente rischioso perché sarebbe stata una difesa completamente rimaneggiata quindi mi metto con un modulo molto simile ovvero con un 4-4-2 a rombo simile perché neanche in questo caso abbiamo 4 giocatori che possono comunque gestire il pallone lì davanti nella parte centrale del campo certo perdiamo qualcosa sulle fasce perché i terzini sono molto più bassi però allo stesso tempo potremo colpirli in verticale grazie alle incursioni di Xadas che potrebbe illuminare qualche passaggio per Oland o magari Pellegri che prima che si recuperasse Oland faceva gol come se non ci fosse un domani palline avanti per Pellegri che aggancia facilmente poi il tiro e la parata di Berisha subito l'acuto di Pellegri in questa partita che si promette assolutamente spumeggiante ma soprattutto che dobbiamo provare a vincere perché il Napoli ha vinto la partita della scorsa giornata la Juventus ci ha fermati e quindi siamo a un solo punto di vantaggio rispetto alla seconda in classifica Wagnumann si saltano due giocatori poi sbaglia però il cross e Valotti può far ripartire la spalla e può ripartire quindi il contropiede con Barrow che però è più lento di Trostekong e quindi possiamo recuperare questo pallone facile e facile poi la palla a Dodero che probabilmente lancerà lunghissimo a cercare un suo compagno no la passa veloce a Trostekong anche se io gli avevo detto di passare a lunga Wagnumann avanza indisturbato sulla tre quarti si accendra poi va al tiro però sbaglia completamente la direzione calcio d'angolo per il Cagliari Contonari che la mette sul secondo palo per Oland ma la palla finisce sopra la traversa riparte Pelleri che la butta davanti per Oland che è da solo quindi aspetterà sicuramente l'inserimento di qualcuno tipo Nandez che quel punto della ritorna a Oland che va al tiro mannaggia l'avevo vista dentro da quella zona di campo Oland di solito fa goal e purtroppo mi è risaltato troppo presto Bericcia provo a rilancio lunghissimo a cercare un suo compagno e sarà De Pauri beccato perfettamente ora può partire sull'auto opposto ma attenzione deve ripartire da Sala perché non trova spazio allora Salamon la butta davanti per Kurtic che riesce a seguire Barrov braccato Barrov perde palla da Trostekong però la recupera caparbiamente Barrov e la gira a De Pauri De Pauri la tiene lì sull'auto di testa prova a spingere e mettere un cross molto lungo ma Rog riesce a recuperare e fa ripartire con Xadas il Cagliari grande aggaggio di Oland attenzione ad Oland in area di rigore ora andi il tiro la fucilata di Oland grandissimo Erling che ci porta finalmente Barcelona è ancora presente ancora vigile e anche se con la Juventus non ha fatto un gran che perché ha fatto un solo gol con la Spal siamo riusciti a passare in vantaggio proprio con Erling Oland rivediamo il gol perfetto la fucilata lui sa tenere la palla bassa la forza di Oland e la capacità di tenere il pallone basso perché quando lo tieni basso il portiere ha più difficoltà a slanciarsi e a provare a parare siamo al sessantesimo e abbiamo uno Xadas ammonito che a questo punto nonostante l'ottima partita io lo toglierei e metterei il signor Lovro Maier che ultimamente gioca veramente molto poco ma giustamente Xadas sta facendo veramente delle partitone incredibili punizione proprio di Maier palla al centro per il colpo di testa di Romagna ma la palla è alta sopra la traversa calcio di punizione per la Spal con De Pauli che la mette al centro per la testa di Bremer mamma mia mamma mia che rischio Tonali la larga benissimo ad Arons può partire Arons sull'outi destra viene però fermato da Fares ma solo in un primo momento Arons mantiene lì il pallone c'è Bremer su di lui e che riesce però a fermarlo purtroppo e quindi si perde questa opportunità addirittura può ripartire la Spal con Kurtic e trasforma l'azione da difensiva in offensiva attenzione a Kurtic in a di rigore il tiro di Kurtic disinnescato in maniera perfetta da Odero finisce 1-0 questo scontro contro la Spal davvero più difficile di quando prevedessi speravo in una facile vittoria e invece se non fosse stato per San Erlingo sarebbe stato 1-0-0 veramente pericolosissimo per il nostro campionato il campionato si è completamente riaperto dopo la nostra sconfitta contro la Juventus e il Napoli ci sta tallonando sta a una sola lunghezza ne ha recuperati 8 di punti noi abbiamo perso per strada diverse partite la Champions League ci ha messo chiaramente in difficoltà ci ha fatto sprecare risorse preziose ma dobbiamo essere concentrati perché siamo arrivati ai quarti e abbiamo una doppia sfida difficilissima contro il Real Madrid che potremo vedere nel prossimo episodio non mi resta altro da fare che salutarvi e mi raccomando Forza Casteddu Forza Castell